La festa dell'arma dei carabinieri è anche occasione per tracciare il bilancio dell'attività dell'ultimo anno. E' reso conto del comando provinciale di Campobasso e positivo, raggiunti importanti obiettivi nell'ambito della sicurezza pubblica, con risultati significativi sul piano della prevenzione e repressione dei reati. Nel periodo compreso fra il 1 maggio 2016 e il 30 aprile scorso, l'attività preventiva è stata assicurata grazie alla costante presenza sul territorio, in media di 85 pattuglie al giorno, con oltre 4.000 servizi di controllo ed oltre 27.000 servizi di perlustrazione. Circa 119.000 sono state le richieste di intervento pervenute al 112, gestite dagli operatori delle centrali di Termoli, Larino e Boiano e da quelli del comando provinciale. 760 gli interventi di soccorso effettuati. Nel capologo di regione e nella provincia di Campobasso i carabinieri hanno aperto fascicoli in relazione al 72,23% dei reati denunciati, con oltre 1.000 deferimenti all'autorità giudiziaria e stato di libertà e 171 arresti. 31 i fogli di via obbligatorio. Da segnalare anche i 50 incontri con gli studenti della provincia di Campobasso nell'ambito del progetto della cultura alla legalità. La legione Abruzzo e Molise ha aperto punti di contatto nei comuni che sono privi di presidi dell'arma. In provincia di Campobasso sono attualmente 11 e sono attivi una volta a settimana. Fra le principali operazioni portate a termine nell'ultimo anno dai carabinieri del comando provinciale di Campobasso va ricordato nel lunio 2016 l'arresto a Campodipietra di un uomo di 45 anni, latitante e pluripergiudicato affiliato al clan John Dacchierchia di Torre Annunziata. Nel settembre 2016 poi a Termoli l'arresto di un 64enne pregiudicato di origine campana responsabile di bancarotta fraudolenta conosciuto come Big Ben, ritenuto sulla scorta delle rivelazioni dei pentiti durante il maxiprocesso California un fiaggenciatore del clan camorristico Maiale operante nella provincia di Salerno e per conto del quale come prestanome riciclava denaro proveniente dalle attività illecite e numerose attività commerciali soprattutto nel settore dell'abbigliamento. Diversi anche gli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti a Guglionesi, Gambatesa, Montagano, Montenero di Bisaccia, Campomarino, Termoli e Campobasso.